quest'oggi daremo un'occhiata a una nuova serie dedicata ai gundam sd ovvero le versioni super deformed dei classici appunto gumpla a cui siamo abituati in questo caso si tratta di una serie molto particolare per diversi motivi innanzitutto il sd gundam world sengoku soketsu se l'ho pronunciato bene soketsu den è praticamente il romanzo dei tre regni in versione gundam o meglio gumpla sd si tratta di una serie uscita giusto quest'anno infatti sono questi primi sei modelli di questa line up realizzati da bandai spirits per il bandai hobby central quality e sono fatti in cina a differenza diciamo dei classici gumpla made in japan come possiamo rivedere il bellissimo appunto crossbone il 99 per cento dei gundam avrà la scritta made in japan anche se lo comprate in versione per così dire italiana importati in italia perché appunto vengono fatti in giappone e pochissimi sono fatti su licenza all'estero perché comunque essendo un prodotto di qualità giapponese sono i giapponesi stessi a importarlo nel resto dell'asia in cina i gundam sin dalla fine appunto degli anni 80 con i primi model kit hanno spopolato e sono veri e propri oggetti di collezione quindi non è appunto strano che ci siano tantissime case per così dire tarocche che fanno i loro gumpla più o meno simili più o meno fedeli a quelli bandai sin arrivare a veri e propri plagi e addirittura anche ad alcune eccezioni che sono addirittura migliori degli originali in quanto modelli più curati e dettagliati in questo caso però non si tratta né di un plagio né di un appunto come dire furto di sprue ma semplicemente questi piccolini appunto qua vediamo il logo di questa nuova serie sono fatti sì in cina e c'è vediamo se lo inquadra bene specificato ma sono fatti su licenza da bandai quindi hanno tutti i contrassegni originali e appunto questo reca anche il sito ufficiale gundam.info sono prodotti di qualità comunque controllata non sono i classici plasticoni cinesi che trovate nelle bancarelle o in molte fiere spacciate appunto per gundam qua c'è anche il bel logo di gumpla qua il logo di cosmic group che l'ha importato in italia con anche una discreta velocità perché appunto sono usciti sono incominciate a uscire verso più o meno marzo aprile che li ho incominciate a vedere online e all'inizio appunto pensavo fossero tarocchi perché la serie diciamo dei tre regni era già stata fatta con il sangoku densetsu che era anche un cartone animato arrivato anche in lingua inglese che praticamente narra la versione del romanzo dei tre regni con gli ubei mu yan zangfei che si incontrano affrontano dong zuo poi appunto c'è la divisione nei tre regni con kao kao e sun jian e incomincia appunto la guerra per il dominio della cina che lì invece era un altro mondo e i nomi appunto erano diversi al punto di al posto di gli ubei c'era riubei con anche il concetto di drago perché appunto aveva il potere della spada del drago c'erano diverse cose molto fantasy però basate sui gundam classici infatti i tre fratelli per così dire i fratelli di sangue che poi appunto non lo sono realmente erano fratelli di spada con un patto che gli univa avevano praticamente le fattezze del gundam dello z gundam e dello z z invece questi sono una serie completamente nuova che come andiamo a vedere reka anche proprio il nome del personaggio originale gli ubei e quel gundam gli dà le fattezze ovvero gli ubei unicorn gundam guan yung il nu gundam zang fei naturalmente perché è il personaggio ignorante grosso è il god gundam quindi lui è picchione in più questi personaggi diciamo i tre per così dire fratelli hanno le armi combinabili in una superarma mentre ad esempio kao kao è un wing gundam e appunto ha tutto il set di ali e di armi in clear parts che si ricombinano sun gian è un gundam astrai molto bello tra l'altro veramente tamarrissimo anche se non concordo con i colori perché anche dynasty warriors mi ha insegnato che hanno colori diversi si sono rossi però questo rosso dorato è un po pacchiano sembra una fenice però effettivamente il rosso si sposa bene con la strai e quindi ci sta l'arma in versioni ali non mi dispiace per niente mentre in questa sorta di forcone non mi dice un granché e il cattivone di questa prima rush è appunto dong zuo in versione providence gundam che non è eccessivamente grosso dong zuo chi ha giocato appunto dynasty warrior sa che è il ciccione cattivo per così dire è il classico appunto tiranno che si magna tutto lui per così dire e ha una forma molto bella che si trasforma nel dinosaur form è praticamente appunto un tirannosauro tirato fuori dal providence gundam questi sei sono la prima diciamo ondata arrivata in italia infatti mi sono arrivati tutti insieme adesso ne sono previsti in totale una quindicina tra cui anche le versioni migliorate potenziate tra cui anche l'ubu che anche lì ha un gran personaggio un bellissimo gumpla tra l'altro e quindi dopo aver presentato questa cosa e facciamo vedere ancora un paio di piccole diciamo chicche non so se si inquadra bene ma oltre al test in giapponese ci sono anche tutte le traduzioni in inglese quindi sia sulla scatola sulle varie funzioni che ti fa vedere diciamo la trasformazione e tutto sia poi nel manuale hanno chiamiamolo il paginone centrale per così dire con il disegno splash page diviso in due la storia che ti spiega anche l'area degli Wei appunto le fazioni tra i Shu e i Wu che sono alleati poi si combattono e poi appunto c'è la storia del personaggio il nome dell'illustratore dall'altra parte abbiamo appunto la spiegazione delle varie cose che può fare le combinazioni appunto delle armi la trasformazione magari di alcuni pezzi e le pagine centrali nella prima c'è chiamiamola appunto la mancolista dei pezzi per poi andare a costruire il Gunpla in un manuale molto simile a quello dei Cross Silhouette in cui praticamente al centro ti fa vedere come verrà e ai lati ti indica con delle piccole frecce ogni singolo pezzo che si va a costruire poi c'è un minimo di ordine su come assemblarli prima inserendo le gambe poi il torso poi testa e braccia quando si vuole e l'armamentario nell'altra pagina separata quindi ci siamo fatti una piccola panoramica di questa nuova serie appunto come potete vedere dal logo SD Gundam World Sangoku Soketsu Den prima o poi riuscirò a imparare a dirlo velocemente e quindi qua ti fa vedere anche ti spiega che cosa contiene è molto molto valida come serie e adesso procederemo a un piccolo unboxing di ogni singolo personaggio e quindi